...quantità di vitamini, sali minerali e fibre con un altissimo potere saziante. Non solo, è veramente eclatante il potere energetico della Sei, che lo rende ideale anche in diete speciali per performance di tipo sportivo agonistico. Consumabile in frullati, gelati, succhi di frutta e barrette, la Sei, il superfrutto della vita, potrete da poco trovarlo in alcuni bar specializzati o centri fitness. In ogni caso, contattate Soulfood nel sito in sovraimpressione, darete un importante contributo all'ambiente amazzonico e soprattutto al vostro benessere. Abbiamo terminato questo ciclo di Sport Life, ma non è finita. Non ho messo gli occhiali per le lacrime, eh. Ho messo gli occhiali perché, come vi dicevo, c'è un sole che spacca le pietre e non vedo l'ora di andare sulle spiagge. Ma sono convinto, anche perché ho visto un riscontro incredibile da parte vostra, anzi, mi levo gli occhiali così mi potete guardare veramente direttamente negli occhi, che ci rivedremo il prossimo anno con la terza edizione di Sport Life e mi auguro che rimarrete incollati come avete fatto in questa edizione. Ringrazio tantissimo tutta la redazione di Sport Life, la redazione di Sportman & Fitness, Massimo Spattini, tutti i nostri professionisti, Marco Ultrocchi, al quale proprio rinnovo i miei auguri e i ringraziamenti per il grande lavoro che ha svolto e per tutte le volte che l'ho bistrattato, perché voi non potete capire, perché stando dietro lo schermo a volte vi siete persi i nostri gossip di studio. E ragazzi, vi do un abbraccio, un bacione, mi raccomando, ricordatevi di mettervi la crema solare protezione abbondante per le pelle delicate, ora che avete anche dei fisici asciutti, definiti e tonici grazie a Sport Life, ci rivedremo poi dopo con le foto che manderete qui in redazione alla prossima edizione. Un bacione da Max Bertolani e ragazzi ci rivediamo fra poche puntate, eh? A tra poco, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS